amici sagoriani buongiorno nuovo appuntamento settimanale con l'uscita del cartonato del corriere della serie gazzetta dello sport lo sceicco di bagdad numero 80 allora diamo una chiara velocemente a questo albo che contiene una storia memorabile che ci ricordiamo tutto almeno tutti quelli che l'hanno già letta perché una storia di nolitte ferri veramente veramente bella intanto diciamo subito che la copertina è tratta da la guato il mutante come ci suggerisce l'amico alessandro leo che non ne sbaglia una ok nella quarta di copertina vi diamo una vignetta della storia di ferri con una sinossi della storia dove guitar game ruba appunto la mano di all'acqua questo gioiello dello sceicco vediamo un pochino questo albo allora diamo un'occhiata velocemente nel sommario vediamo che c'è dunque vabbè pagina 7 continua lo sceicco di bagdad testi di nolitte ferri poi a pagina 115 torniamo un paio nel tempo con una storia una delle prime storie di di zagor del 65 lo stegore scomparso poi si conclude con il mondo di zagor e gli archivi buonelli vedremo cosa ci troveremo allora sotto la bandiera del re di paper hop m darkwood quindi qui c'è una battuta di fabio licari dove ci parlerà qui vedo carl barks a qui promette c'è un raffronto come ogni tanto si fa tra paperino probabilmente e cico non so sto dando un'occhiata velocemente si si parla un pochino dei compagni le spalle dei protagonisti le spalle scherzosi come c'erano in tanti altri personaggi sarà un articolo interessante che leggeremo ok poi comincia la storia nolitte ferri con la fine appunto della storia del romano di alla lo sceicco nero bellissima storia veramente ragazzi guardate ferri come riusciva a fare le inquadrature cambiava le prospettive che sembra una cosa ovvia ma insomma questa presa di tre quarti dal lato poi dal basso insomma vabbè questi sono tutti i dettagli della inarrivabile arte di ferri ok la storia si svolge abbastanza linearmente con un'avventura veramente veramente una bella storia guardate l'atmosfera che riesce a creare ferri con quando mi faccio vedere quando sono a parlare come cambiava campo per primo piano i due protagonisti esterno primo piano come vi dicevo già altre volte per dare movimento alla sequenza quando ci sono dei dialoghi cambiando inquadrature prospettive ok allora dicevamo che c'è lo scontro finale e qui finisce 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 ecco qui finisce lo stregone scomparso sempre di un hit ferry che ci riporta un pochino indietro nel tempo come spessissimo cosa sempre accadeva si parte con una gag di cico questa volta le prese con un boomerang le prime 7 8 pagine 10 pagine per poi cominciare la storia vera e propria con la richiesta d'aiuto di un indiano in sogno a zagor ok questa storia non dovrebbe durare tantissimo ragazzi quindi credo che finirà nelle prime pagine del prossimo albo poi daremo un'occhiata al titolo per capire cosa ci aspetta dopo allora seminole prima parte qui si parla del famoso popolo che è stato protagonista anche di alcune storie memorabili di zagor che ne vediamo proprio una copertina qui c'è galleppini nella foto storica e poi il prossimo numero eschimo l'invincibile ok quindi sappiamo già a cosa si riferisce il la prossima storia con i falchi delle nevi ok vediamo che i numeri sono sempre fino al 90 l'anticipazione dei titoli quindi ancora non sapremo come continueranno gli ultimi 10 numeri da notare che nelle uscite è sempre segnato 100 uscite non è cambiato quindi al momento pare che siano confermate le 100 uscite non le 150 come si ipotizzava facessero anche per come hanno fatto per tex voglio dire ok ragazzi allora in edicola da domani lo scico di bagdad forse a qualche parte oggi comunque questa anticipazione vi dà un'idea di quello che ci aspetta in questo numero 80 ok per questa uscita è tutto ci vediamo la prossima settimana buona giornata a tutti